buongiorno stiamo andando a scuola ho i capelli non schifo stamattina lavato ieri e tutti ieri lo shampoo ormai il periodo di tenerli legati infatti penso che mo me li leggo perché inizia a fare caldo oggi abbiamo un compleanno ieri sera siamo stati proprio benissime però emma vediamo perché non inizia il periodo in cui non sopporto i capelli sciolti lo sapete e me li leggo sempre che non inizia a sudare problema che quest'anno i ciuffetti davanti corti che fanno proprio schifo ma detto questo andiamo a scuola buongiorno tu rimani qua ci vediamo fra un po ciao ti lasciamo da solo ciao certo direi da solo non sarebbe il caso ancora andiamo emma sei stanca guardate qua che c'ho tra le mani dopo vi faccio vedere emma sei stanca non rispondi non pervenuta mia figlia tante sorprese per emma per il compleanno mamma gli sta preparando sarai come sarai super felice sarà un compleanno strepitosamente fantastico sei contenta allora sto sistemando un pochettino perché poi dobbiamo andare al compleanno brandon non accenna a dormire io volevo ho detto speriamo che dorme così almeno posso pulire sistemare un po ho già pulito però tipo i piatti di pranzo con le cose là ma lui non accenna a dormire niente mio figlio oggi così mamma che bel sole baciato dal sole allora ecco qua vi faccio vedere i ricordini che ho acquistato per dargli la sera del compleanno cioè il 16 alla sala feste mentre quelli che ho fatto già vedere sono per la scuola ok ora giro videocamera pronti da ragazzo ve lo do le vi piacciono sono delle penne con astitch che poi può diventare anche un portachiavi c'è untrata c'è un portachiavi perché poi una volta staccato questo rimane la penna e volendo anche il portaiave, ci sta così ci sta, ci sta così, poi così e poi così, no, questo ho fatto vedere eccolo qua, questo qua sono troppo carini ragazzi io mi devo fare la doccia perché sono già le 5 alle 6 devo stare a compleanno che per fortuna è vicino casa, però devo aggiustare un po' fa un caldo assurdo ora lo sentirete per tutto il resto dell'estate vi dirò sempre fa caldo dicevo vi faccio vedere anche i pensierini che ho fatto per la classe finiti eccoli qua, praticamente sono venuti belli chiusi, ho messo anche lecca lecca, chiusi così garbati garbati, alcune bustine non avevo il doppio perché questa in realtà ne va uno solo, però io alcune le ho messe due, alcune una insomma che sono avanzate, tutto qui comunque carini allora eccomi qua, stiamo andando al compleanno scusate sono un po' sparita ma purtroppo è stato un pomeriggio un po' così un po' giù di morale per la questione peso sono ingrassata tanto e quindi ho pianto un po' ora sto meglio, andiamo a questa festa speriamo di divertirci un po' e di distrarci emma iniziamo a vedere ragazzi buongiorno ma scusate ma ieri sera non ho chiuso il video comunque una bella festa tutto bene e ci siamo divertiti molto ora vi faccio vedere i biscottini che abbiamo avuto anzi uno solo ne ho qua l'altro non lo so dov'è vi faccio vedere sarebbe il ricordino dopo il compleanno praticamente il tema era dinosauri però non ho potuto riprendere molto perché c'erano i bambini quindi impossibile quasi carino ora vi faccio vedere anche l'altro questo è l'altro vedete quanto è carino bellissimi avete visto quanto sono carini i biscotti niente ragazzi vi saluto vi do quel video e ovviamente ne apro subito un altro perché non vi lascio più e siete contente che sto facendo tanti video questo mi fa tanto piacere almeno stiamo in compagnia vi mando un bacio e al prossimo ciao